ciao a tutte è da un bel po di tempo che non registro video perché ultimamente mi è mancato un po il tempo ma soprattutto mi è mancata la voglia torno con una nuova puntata del video sui prodotti finiti quindi nella versione questo l'ho finito e l'ho sostituito con comincio come spesso faccio dalla sezione detersione abbiamo finito due confezioni da mezzo litro di questo sapone liquido premium della sien questo nella versione gels e citronella che tra le tre versioni è quella con la profumazione che preferisco questo sapone l'avete già visto piuttosto spesso nei miei video e infatti ne stiamo usando e quasi finendo anche un'altra confezione altro prodotto comprato da lidl questo bagno doccia sempre informato da mezzo litro la marca è vivo di natura e questo era nella versione aloe e avena se vi ricordate questo bagno doccia era quello che mi aveva provocato una sorta di delusione indiretta perché il cartonato esterno faceva quasi sembrare che è la forma di questo flacone forse quella di una bottiglia di spumante di champagne e invece come vedete è un classico flacone cilindrico col tappo quindi niente di che penso di avere un po patito di quella delusione che è in qualche modo un po influenza la mia opinione anche sul prodotto in sé perché non è che mi abbia esaltato più di tanto nel senso che detergente abbastanza liquidino profumazione che non mi ha particolarmente entusiasmata quindi ha fatto il suo però sicuramente non è un prodotto che mi ha colpito particolarmente o che mi sentirei di ricomprare anche perché comunque per la media dei prezzi di lidl non era proprio bassissimo finito questo abbiamo iniziato e devo dire con mia grande soddisfazione uno dei due bagno e doccia gel della marca l'angelica anche questo l'avevo preso da lidl questo qui nella versione macadamia avevo comprato anche un'altra versione che ho in bagno che non mi ricordo più comunque cos'è comunque anche qui è una bella confezione grande da mezzo litro questo è proprio un gel di nome di fatto nel senso che la consistenza è piuttosto densa quindi non è uno di quei detergenti liquidi che si sparge si spande un po dappertutto quindi già questa è una cosa che apprezzo molto la profumazione mi piace tantissimo e anche leggermente dolcina ma assolutamente non stucchevole stomachevole basta pochissimo prodotto per fare un sacco di schiuma che risulta molto morbida e idratante sulla pelle del corpo quindi questo prodotto qui mi sta piacendo un sacco rimaniamo in doccia perché ho finito questo shampoo protettivo colore anche se l'ho usato quando io il colore ormai non me lo faccio più da tempo sui capelli ma comunque al di là che fosse uno shampoo protettivo colore era uno shampoo quindi ci sono semplicemente lavata i capelli la marca è dell'idea quindi l'avevo sicuramente comprato da tigotan questo shampoo era con mora e albicocca quindi aveva una profumazione fruttata buonissima ma penso che sia anche l'unico aspetto che mi è piaciuto di questo shampoo perché a proposito di detergenti liquidi questo era veramente liquidissimo quindi nel momento in cui ne mettevo un po sul palmo della mano mi scivolava via da tutti i buchini tra le dita quindi no assolutamente no ma poi era eccessivamente sgrassante quindi io una volta che andavo a sciacquare questo shampoo sentivo proprio l'effetto smie che l'effetto svelto al limone sui miei capelli quindi assolutamente no e tenete conto che io comunque ho la cute grassa quindi ho l'esigenza di andare a pulire bene il cuoio capelluto a sgrassarlo ma questo era eccessivamente sgrassante quindi per me è bocciato salvo appunto solo la profumazione fruttata che era veramente buonissima finito lo shampoo di dell'idea ho iniziato ad usare questo shampoo qui della siena con vitamine e caffeina l'indicazione è per capelli fini e danneggiati i miei capelli non sono danneggiati però sono sicuramente molto molto sottili e devo dire che questo shampoo qui mi sta piacendo un sacco perché fa comunque un'ottima schiuma anche se però rimane piuttosto delicato sui capelli quindi non eccessivamente sgrassante non eccessivamente aggressivo lascia i capelli belli puliti ha una buona profumazione che a me piace molto questa qui è una confezione da 250 ml e vedo qui che anche la certificazione vegan sempre a proposito di shampoo ho finito questa confezione anche questa era da 250 ml di questo shampoo anti giallo che avevo acquistato da tigota e che devo dire non mi ha particolarmente colpita nel senso che era uno di quei classici shampoo di colore viola tra il viola e il blu insomma quelli che di solito vengono utilizzati per eliminare i riflessi troppo gialli ad esempio dai biondi tinti ma che si usa anche sui grigi naturali per far emergere i riflessi più freddi dei grigi e dei bianchi come vedete io qua sono un po melange quindi un po un misto di grigio e bianco che si mescola vi dicevo che non mi ha colpito particolarmente questo shampoo qui perché io venivo da un'esperienza con uno shampoo comprato dalla parrucchiera da qui ero stata a fare la decolorazione vi sto parlando ormai di mesi e mesi fa quindi avevo comprato da lei nel suo salone il mio primo shampoo anti giallo non ne avevo mai provati in precedenza perché non ne avevo mai avuto bisogno e una caratteristica che mi aveva molto colpito di quello shampoo era che andava veramente a colorare nel senso che io lo usavo senza guanti in doccia e andava veramente a colorare soprattutto la parte qui che magari è un pochino più secca e screpo latina di solito delle mani quindi qui diciamo l'incavo tra un dito e l'altro questo qui invece non colorava per niente quindi siccome il principio d'azione diciamo di questi shampoo è quello ottico quindi il viola essendo il complementare del giallo va a neutralizzare otticamente quei riflessi lì per fare questo deve essere uno shampoo molto molto pigmentato perché altrimenti non come dire non manifesta il suo effetto sui capelli infatti questi tipi di shampoo qui non vanno messi e sciacquati subito ma vanno di solito lasciati in posa per almeno 23 minuti quindi questo shampoo qui era sì di colore viola ma in realtà non non era abbastanza pigmentato non colorava quindi questo qui non mi è piaciuto particolarmente e adesso sto utilizzando questo bel boccione qui che invece da mezzo litro sì esatto tra l'altro ecco altra cosa queste due confezioni qui hanno all'incirca lo stesso prezzo solo che questa è la metà di questa quindi anche solo per una questione di convenienza questo qui è in ogni caso da preferire forse questo magari è un filino meno reperibile perché io questo l'avevo comprato al dm e non so dove altro sia disponibile questa marca che è alama alama professional che tra l'altro ho scoperto essere anche piuttosto local perché viene prodotta a bassano del grappa quindi neanche tanto distante da dove abito io ecco di questo shampoo qui di cui apprezzo molto la confezione comoda perché ha il dispenser l'unico tratto che non mi piace molto è la profumazione perché è una profumazione forte e non particolarmente nelle mie corde però a parte quello questo è veramente uno shampoo molto molto valido perché è uno di quelli che davvero colora infatti mi devo lavare le mani un paio di volte dopo averlo applicato sui capelli perché fa veramente fatica ad andare via quindi questo shampoo qui nonostante sia piuttosto economico perché siamo intorno ai 7 euro credo ripeto per mezzo litro quindi dura tanto è comunque un prodotto che io sto reputando veramente molto molto valido che fa una buona schiuma un pochino mi va a seccare i capelli ma compenso poi con una dose bella abbondante di balsamo e quindi compenso la cosa questo qui mi sta davvero convincendo molto ultimo prodotto finito che arriva dalla doccia questo olio per il corpo della sien nature anche questo a il bollino vegan questo era della linea sensitive alla mandorla di cui erano usciti erano uscite varie referenze allora di questa linea a me è piaciuta tantissimo la profumazione tra l'altro in questo video vi mostrerò anche altre referenze proprio di questa linea ripeto profumazione buonissima ma veramente paradisiaca per quanto mi riguarda olio corpo non male anche se non è risultato così tanto idratante come quello precedentemente finito quello prima di di questo era sempre della sien ed era quello con melograno e pacche di gogen forse non mi ricordo comunque quello lì mi era piaciuto molto profumazione molto delicata che quasi non si sentiva però molto idratante quindi non unto però si sentiva il suo effetto nutriente sulla pelle questo qui profumazione meglio però un filino meno idratante quindi quando ho finito questo qui ho iniziato ad usare un altro olio corpo sempre della sien questo qui della linea aromatic oils questo olio corpo contiene olio di nocciola e anche degli oli essenziali di lavanda menta e rosmarino ha una buonissima profumazione che si espande per tutto il bagno non apprezzo particolarmente la confezione vi devo dire la verità infatti avevo già espresso qualche scetticismo quando l'ho acquistato perché ha un buchino piccolissimo per cui devo rovesciarlo e insistere molte volte perché escano un po di gocce quindi la confezione non mi fa proprio impazzire però il potere idratante è veramente ottimo molto più idratante di questo qui e secondo me anche più idratante di quello al melograno e bacche di goji quindi questo qui mi sta veramente piacendo tantissimo anche perché come vi ho spesso detto io ho la pelle del corpo soprattutto delle gambe molto 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 secca quindi ho bisogno di prodotti che siano davvero molto nutrienti e idratanti e questo qui devo dire rientra pienamente in questa categoria ho finito ben tre tubetti di crema mani di cui una era questa e cioè quella della ph bio nella versione nutriente questa qui era arricchita con olio essenziale di arancio e limone distratti di altea e malva era il classico tubetto da 75 ml questa qui non male anche se come vi ho detto nel precedente video mi è piaciuta di più paradossalmente la versione idratante di questa crema mani rispetto a quella nutriente perché in realtà quella idratante secondo me idratava di più rispetto a quella che doveva essere in teoria un pochino più pesante un pochino più ricca che era questa qui nutriente che secondo me idratava un po meno in ogni caso sono state tutte e due creme mani che mi sono piaciute ho finito poi queste due che sono appunto della stessa linea dell'olio corpo quindi della linea sensitive alla mandorla e queste due creme mani queen che già sono due quindi potete capire che la prima mi era piaciuta tanto che ne avevo comprato un'altra ma in realtà ne avevo comprata poi anche una terza è quella che sto usando in questo momento allora questa crema mani qui non è particolarmente ricca o nutriente però è abbastanza leggera e di facile assorbimento per essere secondo me adatta come crema da giorno il fatto che dopo l'acqua nell'inci ci fosse un olio quindi l'olio di girasole in questo caso e non subito la glicerina era per me già quasi una garanzia di successo nel senso che molto spesso quando la glicerina è molto molto alta nell'inci che vuol dire che molto molto presente nella formulazione della crema quasi sempre quella crema lì non mi piace perché l'effetto della glicerina è sì diciamo emolliente ma non è per me per le mie esigenze abbastanza idratante quindi questa qui nonostante non sia comunque iper idratante iper nutriente va comunque a dare un bel effetto vellutante alla pelle delle mani senza risultare troppo unta come vi ho detto si assorbe facilmente e senza dare quell'effetto di crema glicerosa che a me non è che piaccia tantissimo passiamo al viso perché ho finito questa schiuma detergente della linea ocean care della sien questa era quella con le alghe rosse questo prodotto qui mi è piaciuto veramente uno sacchissimo perché era una di quelle schiume detergenti che rimangono belle sode che non si sfragnano che non si liquefano facilmente aveva quasi la consistenza di una schiuma da barba quindi bella pannosa aveva una buona profumazione e rimaneva delicata sulla pelle quindi mi dava comunque la sensazione di aver lavato il viso ma il viso la quindi la pelle del viso non tirava e quindi questo prodotto qui mi è piaciuto davvero un sacco quindi severa riproposta questa linea sicuramente potrei pensare di ricomprare questo prodotto invece non mi sta particolarmente esaltando la terza e ultima referenza sempre di questa linea qui della si e nature appunto la schiuma detergente per il viso anche qui con bollino vegan perché di questa qui praticamente salvo solo la profumazione in quanto è una schiuma detergente che non rimane soda che un pochino si sfragna quindi non ha una consistenza bella densa e pannosa che è quella che io preferisco ma è un pochino più liquidina e quindi ce ne vuole intanto di più per avere la sensazione di aver lavato bene il viso quindi praticamente di questa qui salvo solo la profumazione e a proposito della linea ocean care ho finito anche il contorno occhi in gel che era quello di colore azzurrino che vi ha mostrato sicuramente più di una volta perché ci ho messo un sacco di tempo a finirlo nei miei video sulla skin care routine in azione diverse di voi mi hanno chiesto se questo contorno occhi a me bruciasse siccome l'ho usato e finito evidentemente no non mi ha mai creato bruciore o irritazioni in questa zona anzi per me aveva un effetto anche blandamente rinfrescante per cui l'ho usato tutta l'estate scorsa praticamente e ho continuato ad usarlo la mattina finché appunto non è poi finito quindi a me questo prodotto è piaciuto tanto un po perché appunto dava questo bel effetto rinfrescante quindi soprattutto quando magari mi svegliavo con l'occhio un po pesto l'occhio un pochino più pesante diciamo contribuiva a farlo leggermente sgonfiare e poi creava un effetto leggermente tirante riliftante quindi a me questo prodotto è piaciuto e appunto non mi ha creato il minimo problema e adesso solo perché lo ce l'ho in uso da tanto e voglio finirlo sto usando quest'altro contorno occhi sempre della sien questo era della linea honey age è quello indicato per il contorno occhi di persone un po agee diciamo che non è incredibilmente ricco o pesante secondo me può usarlo chiunque in realtà è una cremina piacevole di rapido assorbimento come vi ho detto non particolarmente ricca o unta e infatti la sto usando comunque al mattino in sostituzione di questo prodotto qui che era completamente diverso per quanto riguarda la formula però vi dico che appunto questo non è particolarmente nutriente quindi anche sotto al trucco o comunque da applicare in velocità si assorbe comunque abbastanza velocemente ultimo prodotto per il viso ho finito dopo un tempo presso che infinito credo quest'acqua micellare al caffè verde della e cos che avevo indubbiamente comprato da tigota con il 99,5 per cento di ingredienti di origine naturale certificata icea e con bollino vegan questo prodotto qui mi è durato tanto tempo era una confezione da 300 ml perché fondamentalmente io l'ho sempre usato quasi solo come struccante per gli occhi mi è piaciuto molto perché struccava molto bene senza bruciare senza farmi lacrimare gli occhi senza lasciare residui senza neanche dover troppo insistere in più aveva anche una buona profumazione e come tutti i prodotti della e cos è un prodotto economico al momento non ho acquistato nessuna acqua micellare in sostituzione ma sto semplicemente andando a struccare tutto il viso quindi occhi compresi con questo prodotto qui che è sempre della sien della linea o nei age e che è un olio struccante con cui mi trovo benissimo e infatti adesso che sta praticamente finendo perché come vedete ne ho pochissimo sono un pochino disperata perché mi piace davvero tanto sia per la profumazione di miele molto delicata ma anche soprattutto per il fatto che strucca perfettamente anche il mascara waterproof che sto usando ormai da più di due mesi praticamente tutti i giorni perché se metto il mascara normale con il vapore della mascherina mi si stampa qua e quindi è un effetto che voglio evitare e quindi con quest'olio qui si strucca perfettamente ripeto anche il mascara waterproof e al momento non ho un altro olio struccante da utilizzare in sostituzione anche se ho fatto un ordine sul sito di e style in cui appunto ho ordinato un olio struccante però non so quanto ci metterà ad arrivare e quindi non lo so nel frattempo vedremo cosa farò per struccarmi in ogni caso questo qui per me è assolutamente un prodotto promossissimo finito poi questo prodotto labbra che era il nourishing care lip sleeping pack di clavu questo prodotto mi era stato inviato gratuitamente da yes style era una confezione da 20 grammi ma mi è durata veramente infinita di tempo era un burrino che aveva quasi la consistenza e l'aspetto di un gel non male non male per niente io lo usavo non solo come prodotto come diciamo maschera per le labbra quindi da mettere prima di andare a dormire ma in realtà lo usavo come unico prodotto labbra anche durante il giorno vi dicevo non male non male assolutamente anche se continuo a piacermi un pochino di più il prodotto di lane che ho ordinato sempre su yes style questa qui è la mini taglia questa è la lip sleeping mask nella versione berry che avevo già provato in passato e che mi aveva fatto assolutamente innamorare la profumazione fruttata è molto buona ed è un prodotto leggermente più diciamo idratante e ceroso quindi permane più a lungo sulle labbra rispetto a questo in ogni caso penso che siano entrambi i prodotti molto 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 validi finiti poi questi due tubetti di dentifricio questo qui dell'angelica nella versione con lime e menta che ha questa bella confezione un po vintage che ricorda un tubetto di tempera o di acquerello l'avevo comprato da lidl però è un dentifricio che non mi è piaciuto particolarmente un po perché non aveva abbastanza sapore fresco per agire anche sull'alito un po perché era in pasta e io di solito preferisco i gel ma soprattutto perché non mi sentivo i denti abbastanza puliti dopo averlo utilizzato infatti per riuscire a finirlo lo usavo in combinazione con questo qui che è un evergreen l'avete visto tante volte nei miei video dei finiti e cioè il dentifricio triplazione all'aloe della equilibra che ho usato appunto tante tante volte e quindi sul sullo spazzolino mettevo metà dell'uno e metà dell'altro e appunto questo mi ha servito per riuscire a finire questo qui che se no da solo in sostituzione stiamo utilizzando questo dentifricio qui della colgate o colgate una delle due pronunce sarà sicuramente giusta è anche questo una triplazione e anche questo credo di averlo comprato da lidl magari era tipo in offerta e anche tri tricolor come vedete qui la triplazione è protezione carie denti bianchi e alito fresco sicuramente con questo qui dopo averlo sciacquato mi sento i denti sicuramente belli lisci e puliti bene come al solito è stato un video lunghissimo infatti mi è quasi andata via la voce adesso chiudo vi saluto vi ringrazio e se volete ci vediamo alla prossima ciao ciao